Il suicidio, ma non solo, si muore per malattia oppure per overdose o omicidio o ancora altro, sono state 59 le vite spezzate negli istituti penitenziari nei primi tre mesi del 2024, persone i cui nomi e cognomi verranno scanditi al megafono domani davanti alle carceri italiane dai garanti regionali, provinciali e comunali dei detenuti, che considerano impressionante il totale dei morti negli anni, compreso il numero degli agenti penitenziari suicidi. L'iniziativa territoriale a mezzogiorno comprenderà incontri e dibattiti, coinvolgerà l'intera penisola e proseguirà a oltranza, andrà avanti nel tempo, perché di tempo non ce n'è più, dicono i promotori. Chiediamo che siano ripristinate le telefonate che venivano consentite quasi tutti i giorni nel periodo del Covid e che oggi non è più possibile avere e chiediamo misure straordinarie che possano effettivamente ridurre la popolazione detenuta alla capacità non solo degli spazi detentivi, ma anche alle risorse umane disponibili in carcere e quindi alle risorse degli operatori di polizia, degli operatori educatori, di tutti coloro che lavorano in carcere e che non possono reggere l'urto di una presenza che supera i 60.000 detenuti. Una cella può essere condivisa anche da 10 detenuti e la maggioranza riesce solo per le ore d'aria, sovraffollamento e inoltre un quarto degli istituti penitenziari raggiunge il 150%, un dramma con l'arrivo del caldo estivo destinato solo a peggiorare.